Punta sull'alta formazione la provincia di Pescara per il suo ultimo intervento da oltre 200.000 euro nel settore lavoro, iscritto all'interno del perimetro della programmazione del Fondo Sociale Europeo 2012-2013. Dal 9 luglio fino all'8 agosto le aziende iscritte alla Camera di Commercio della provincia di Pescara potranno richiedere con apposita domanda scaricabile dal portale Lavoro della provincia i voucher formativi da spendere sia attraverso l'impiego di enti accreditati sia di liberi professionisti. Una formazione mirata e specialistica hanno spiegato il presidente Guerino Testa e il dirigente del settore lavoro della provincia di Pescara Tommaso di Rino che punta a rispondere alle esigenze delle imprese. Saranno loro infatti a gestire la formazione tramite i voucher che altro non sono che un rimborso che la provincia eroga compreso tra 5.000 e 20.000 euro a seconda della grandezza dell'azienda e dei lavoratori coinvolti i quali possono essere manager, imprenditori, lavoratori atipici, apprendisti o lavoratori con contratto tradizionale compresi coloro che sono in cassa integrazione purché non siano a zero ore. È una buona dose formativa di cui le aziende si possono avvalere e riteniamo che avrà grande successo. Lo dico perché noi con il nostro settore lavoro e informazioni facciamo un'attività di ascolto, non siamo autoreferenziali e quindi sappiamo che il territorio e le aziende del territorio ci chiedono questo tipo di intervento. Le domande possono essere inviate in tre tranche dal 9 al 18 luglio, dal 19 al 29 luglio e dal 30 luglio all'8 agosto anche per posta elettronica certificata e la procedura di selezione è volta alla celerità della risposta da parte dell'ente provincia attraverso la metodica dello sportello. Dai primi conteggio abbiamo calcolato che una cinquantina potrebbero essere le aziende che potrebbero contare su questo contributo, però noi contiamo anche di avere ulteriori economie per fare un ulteriore slittamento. La novità, un'ulteriore novità di questi bandi è anche la celerità delle risposte. Da domani, il 9 luglio partiranno questi bandi e dal 9 al 17 ci sarà la prima tranche, il 25 luglio saremo in grado di dare risposte positive o negative a chi ha presentato domande in questo primo lasso di tempo.